Anche in questa legislatura, Presidente Casellati, ci si aspetta e si cercherà di parlare di riforme. Non bisogna né favoleggiare la possibilità che si faccia tutto e subito, ma soprattutto non bisogna temerle. Le dobbiamo provare a realizzare insieme. Al Senato della Repubblica può spettare il via, anche nei confronti dell'altra Camera, della necessità di aggiornare non la prima parte della Costituzione, che è indagibile, ma la parte che merita più efficienza, più adeguatezza ai tempi nostri, più capacità di dare risposte ai cittadini, più capacità di appartenere alla volontà del popolo. Io credo che questo Senato, in questa legislatura, potrà farlo direttamente, con una legge che promuova una Costituente, con una bicamerale. Sono vari i modi. L'importante, come mi hanno insegnato sin da ragazzo, che vi sia la volontà politica, che è la cosa fondamentale, di realizzarle queste riforme. E allora, se c'è quella volontà, passeranno.